Il DUDE Il DUDE Non lo so Il DUDE Il DUDE Il OER Il DUDE Non si può essere Ma non si può essere Da un mese e mezzo non l'ho provato ma non ci ho mai fatto il provo eh no perchè di solito ho sempre il pizzo di provare un po' tutto sotto qui e invece non ho avuto tempo di provare l'ho un po' per qualche cosa e non l'ho provato più solo ieri sera ci ho fatto un giro ma e nel catodo Pindorra campagna non l'ho non l'ho oh Mario ma i pedali non si fanno più avanti e come dico? ma non l'ho mai fatto qua ma come si fanno più avanti? ma la leva qua, la leva qua di qua ah eh beh sorry non l'ho mai non l'ho mai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.